Guardate Infusion Reality, mi raccomando. Mi chiamo Stefano Venturini, ho 36 anni, dieta è il fattore di montare comunque sul ring d'atleta, anche se è un reality show, mi ha attratto tantissimo questa avventura. L'avventura vecchia del reality era molto dura, però questa l'ho trovata più coinvolgente a livello di testa proprio e quindi appena mi è stata proposta ho accettato subito perché veramente è una cosa che mi piace tanto. Ma ripeto, questa partecipazione a questo programma mi ha dato uno spirito nuovo, uno spirito proprio da combattente, perché anche se non lo sono un professionista, però in questi mesi mi sento come un professionista perché mi alleno, faccio la dieta, comunque prenderò dei colpi, è una cosa che mi piace tantissimo. Spero che in Italia piacerà questo format perché è veramente un format nuovo, originale, è una cosa che finora non ci è mai stata, a parte altri reality, ma questo qui è veramente una cosa bella, sono contento, veramente mi sento carico per questa cosa, tanto, mi sento forte. Comunque è uno sport che ti dà, oltre a una sicurezza personale, ti dà anche disciplina a differenza di tanti altri sport, perché comunque è uno sport di contatto, è uno sport di sacrificio, è uno sport di un livello anche di testa da supportare molto difficile. Sicuramente piacerà moltissimo perché abbiamo degli atleti molto forti in Italia, abbiamo uno fortissimo che è seguitissimo dai suoi fan, quindi credo proprio di sì, credo proprio che l'Italia abbia bisogno di un reality nuovo, di un reality diverso, che porta anche, diciamo, delle situazioni diverse, non sempre le stesse, sempre i stessi personaggi, sempre le stesse cose, ma bensì persone nuove, non sempre le stesse facce, e comunque il kickboxing è una cosa che attira un po' tutti, tutte le persone. Gli piacerebbe nella vita, almeno una volta, salire sul ring, almeno con la testa, poi magari non lo fanno col fisico, ma a chi è che non piace il kickboxing? Penso che in Italia è un programma che spaccherà. Se capita l'Ambro, se per me è un avversario sul ring, poi magari quando usciamo dal ring andiamo pure a cena fuori, ci mangiamo una pizza, una bistecca, ma là vedo soltanto una persona da battere, da dover vincere, non vedo un amico, lì sopra so botte. La gente lo deve vedere, deve vederlo perché faremo ridere, faremo piangere, ci saranno dei momenti sicuramente duri per noi, e quindi la gente ci deve sostenere su questo reality. Infusion Reality, per vedere noi alla prova e voi alla prova che ci guardate. Forza!